Io le posso dire che Natura non faccia il saltus. Penso che nel 2014 Renzi aveva il 42% in Veneto, nel 2019 Salvini ha fatto il 49,5% o il 39% in Veneto, nel 2024 Fratelli Italia ha il 38%, io l'ho sempre detto la vera sfida è tenere i voti e non prenderli. Più che una fotografia del voto sembra quasi un messaggio agli alleati meloniani, quello di Luca Zaia all'inizio di una settimana che si preannuncia caldissima da tutti i punti di vista. Non solo c'è il ballottaggio in 16 comuni del Veneto, ma c'è pure la partita per l'autonomia con la manifestazione contro il DDL Calderoli organizzata dal Movimento 5 Stelle nelle prossime ore a Roma e la contramanifestazione della Lega indetta per venerdì a Montecchio Maggiore, iniziativa che Fratelli d'Italia giudica legittima, ma di fatto dal sapore elettorale. La Lega è un partito identitario che ha nell'autonomia uno dei suoi cavalli di battaglia, quindi non mi sorprende che faccia una manifestazione in un comune dove ha un candidato sindaco che va al voto, che tra l'altro è consigliere regionale, quindi nulla di strano sul fronte. Le manifestazioni i partiti legittimamente le fanno, a prescindere di cosa accade in Parlamento. Devo anche dire che il nostro partito, la Lega, ha fatto manifestazioni tante al punto tale per l'autonomia che oggi stiamo discutendo in Parlamento grazie alle nostre manifestazioni. Non penalizza l'autonomia alla manifestazione, ma la valorizza ancora di più. Ma noi non abbiamo bisogno di rivendicare nulla, è nei fatti. Il primo Consiglio dei Ministri che vede entrare l'autonomia differenziata è il Consiglio dei Ministri del 2 febbraio del 2023. Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dimostrazione che noi quando promettiamo qualcosa ai Veneti, ma in generale a tutti gli italiani, poi sappiamo mantenerla. La polemica è quindi strisciante con Andrea Ostellari che ne fa una questione più territoriale che politica. Quando si parla di autonomia si deve avere ben chiaro qual è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di rappresentare i Veneti, non è quello di rappresentare una parte dei Veneti.